La vista in sezione è una vista che è spesso molto utile e vantaggiosa per lavorare sulla nuvola di punti perché ti permette di escludere da quello che stai vedendo tutto quello che è davanti o tutto quello che è dietro il piano di sezione concentrandoti soltanto su quello che è sulla sezione e puoi vedere ad esempio elementi che si staccano dal terreno come alberi edifici, puoi toglierli, puoi classificare, puoi fare un sacco di operazioni con una vista molto più pulita. In questo video voglio farti vedere lo strumento di profile editing che c'è all'interno del software LIDAR 360 per la gestione delle nuvole di punti. È uno strumento molto interessante perché oltre a permetterti di fare delle sezioni dinamiche ti divide la vista, l'area di lavoro in due parti dove sopra hai la vista 2D dall'alto e vedi sempre il piano di sezione e sotto hai la vista 2D della sezione ma che può diventare anche una vista 3D e su cui puoi fare una serie di operazioni abbastanza avanzate per questo video magari lo vediamo in un qualche altro video successivo con per esempio il raffinamento di una classificazione di una nuvola di punti quindi lavorando sezione su sezione puoi decidere che cosa appartiene a una classe e che cosa invece appartiene all'altra classe. Andiamo dentro LIDAR 360, questa è la nuvola di punti, tutto sommato abbastanza semplice da elaborazione structure from motion il profile editor lo trovi qui, è questa icona qui, profile in questa barra di menu una volta che clicchi su profile editor la finestra principale ti si splitta in due parti nella parte superiore hai la nuvola di punti in vista 2D è come se tu nella vista normale avessi switchato da 3D a 2D quindi il software ti blocca la vista in 2D, top view, orthographic projection e sotto invece lui ti proporrà la sezione una volta che tu però hai disegnato la traccia per cui la prima cosa da fare è disegnare la traccia della sezione è già attivo il comando, devi fare un click per indicare il primo punto e poi devi decidere qual è l'ultimo punto di questa sezione e fare un altro click il software ti fa vedere la traccia che è questa, vedi quella che sto disegnando lungo questa sorta di strada, questo guado che attraversa questo torrente e poi ti fa vedere anche l'ortogonale alla traccia l'ortogonale alla traccia ti dà due indicazioni ti dà l'indicazione rispetto all'ortogonalità, a che cosa è ortogonale e questo è molto utile ad esempio in questo caso è un alveo io potrei tracciare una sezione lungo questo guado che non è ortogonale in realtà all'asse del torrente, l'asse del torrente magari è più diretto in questa direzione quindi ho un'indicazione anche su quella che potrebbe essere una sezione effettivamente più rappresentativa per una modellazione idraulica ad esempio e poi ti dà anche l'indicazione su quale sarà la rappresentazione 2D della sezione, cioè come guardi la sezione e il punto di vista della sezione in questo caso noi stiamo guardando, guarderemo la sezione, il software creerà una sezione in modo tale che i punti, noi stiamo guardando la sezione in questo caso guarderemo la sezione da valle verso monte quindi uscendo lungo questa direzione quando hai individuato il punto finale fai click a questo punto devi definire, click singolo devi definire il buffer cioè vuoi definire quanto largo vuoi fare questo rettangolo che identificherà la nuova sezione che avrà in output perché il software quello che farà non è indicarti, non ti traccerà una sezione come siamo abituati a pensarla quindi come una polilinea ma ti estrarrà da questa nuvola di punti una sottonuvola di punti che è formata da qui dei punti che stanno all'interno di questo volume volume che nella vista 2D ha una proiezione che ha una proiezione rettangolare devi decidere quanto vuoi che sia alta questo rettangolo considerando la base lungo il lato lungo lungo il lato lungo, l'altezza è il lato corto e quindi è questo buffer se tu ci fai caso qui dentro mi si è aperta una finestra, la finestra di buffer se mi muovo col mouse non sto ancora cliccando da nessuna parte la dimensione aumenta, ti dice il valore di metri che diciamo sono, che stanno a cavallo della traccia della sezione più mi allontano più questo valore aumenta più mi avvicino più questo valore diminuisce una volta che ho indicato, che ho trovato il valore che mi va bene faccio doppio clic e lui qua sotto popola questa finestra con la sezione quindi quello che è all'interno di questo volume me lo riporta qui nella vista 2D attenzione però perché questa vista non è una vista 2D e basta perché il dato è di una nuvola di punti per cui puoi passare dalla vista 2D alla vista 3D cliccando su questa icona qua che ha questi tre cerchi i cerchi orbitali per l'orbita 3D se ci clicchi sopra qua dentro tu puoi orbitare la nuvola di punti e ti rendi conto effettivamente che questa è una nuvola di punti che corrisponde a quello che sta qui dentro volendo puoi cambiare anche il buffer in base alle tue esigenze se vuoi assottigliare la nuvola di punti e vuoi dargli un valore definito quindi non trovandolo muovendoti col mouse ma vuoi dire un numero preciso puoi cliccare qua dentro e puoi modificare questo valore quindi fai un check su questo box modifichi questo valore ad esempio con 0,5 lui visivamente ti cambia il buffer e chiaramente ti cambia anche la dimensione la larghezza, lo spessore di questa nuvola di punti perché qui dentro avendo cambiato questo rettangolo ci stanno meno punti puoi sempre tornare alla vista 2D indicando che scegliendo una di queste due viste non hai il top e il bottom ma hai il frontale, retro, sinistra e destra di default sei in front view se vuoi invertire vai in back view e quindi ti cambia il punto di vista della sezione hai anche la possibilità di fare delle misure con questo strumento strumento di misura dove devi cliccare ad esempio un punto della nuvola e poi vai su un altro punto doppio clic finisce la misura e quello che hai è un box dove ti vengono riportate la misura ti viene costruito un rettangolo un triangolo rettangolo ipotenusa la lunghezza 24-180 il primo cateto sulla Y il secondo cateto sulla X e in questo modo nella vista 2D puoi calcolare anche l'inclinazione la pendenza del lato lungo la misura vale anche nella vista 3D per cui se io mi sposto in vista 3D posso comunque utilizzare lo strumento di misura ad esempio se volessi vedere quant'è il buffer per sapere se questo buffer è facciamo così aumentiamo mettiamo 10 ok così forse è anche un pochino più comprensibile se io volessi sapere quant'è questo buffer cioè 10 metri sono 5 più 5 o 10 più 10 posso fare questa misura e misuro da qui non ho attivato la misura ora sì da qui a qui doppio clic e lui mi dice guarda questo è più o meno 20 quindi vuol dire che il buffer di 10 metri è considerato 10 metri a monte 10 metri a valle della sezione ritorniamo un attimo indietro possiamo portare il buffer a 5 metri e mi riporto in vista frontale una volta che hai trovato la tua sezione che hai tracciato la tua sezione magari potresti volerne tirare fuori altri oppure potresti scorrere un profilo che ha la direzione che è questa direzione ortogonale della sezione che hai tracciato e si sviluppa lungo tutto quello che c'è all'interno dell'area di lavoro cioè lungo tutto la nuvola di punti allora ci sono questi strumenti qua che vengono in tuo aiuto sono molto interessanti perché ti semplificano molto il lavoro metti che tu voglia fare un editing della nuvola di punti sezione per sezione ci sono alcuni software come ad esempio Cloud Compare che ti estraggono tutta una serie di sezioni in questo caso non vengono estratte nessuna sezione ma il software ti permette di saltare da una sezione all'altra semplicemente muovendoti con queste frecce quindi puoi andare cliccando vedi giù e lui si sposta fai caso quando faccio click a questa zona vedi lui shifta e quindi cambia anche quello che c'è dentro la sezione puoi scegliere lo step settings quindi puoi scegliere quali sono gli incrementi che tu vuoi fare in salto di sezione ora bisogna stare attenti perché se poi fai click qui dentro lui ti crea automaticamente esci dalla sezione che stavi editando e ne devi tracciare un'altra e in funzione degli step che tu vuoi fare lui si sposta avanti indietro lungo la direzione di spostamento è funzione anche dell'indicazione della direzione che è data da questo ortogonale è molto intuitivo tutto sommato se la sezione è troppo corta non ti prende tutto l'alveo come in questo caso puoi utilizzare questo strumento che ti permette di incrementare la sezione a step di cui decidi tu l'entità expand di 10 metri per lato oppure puoi espandela volendo anche di 20 metri per lato quindi se fai click lui si espande molto di più chiaro che poi quando la nuvola di punti finisce qui dentro non ti si viene visualizzato più niente però volendola puoi espandere in questo senso oppure la puoi inclinare la puoi ruotare facendo delle rotazioni di step che decidi tu quindi questo menu tendina rotate settings decidi tu l'angolo di rotazione e quindi a mano a mano che clicchi lui ruota la sezione e qua sotto ti fa sempre vedere quello che stai che è compreso all'interno di questo volume la cui proiezione è questo rettangolo ci sarebbero altri strumenti l'ultimo che ti faccio vedere è questo che è molto semplice è il panning pen profile cioè tu puoi cliccare su questo strumento e poi spostarlo mantenendo ad esempio in questo caso non lo puoi ruotare lo puoi soltanto spostare a seconda dell'area in cui vuoi portare la traccia a sezionare la nuvola di punti è più mirato ad andare dove effettivamente vuoi andare questi sono gli strumenti principali ce ne sono altri di strumenti uno di questi strumenti è il tiling quindi puoi dividere la nuvola di punti in funzione di quella che è la sua estensione e quindi ti può facilitare l'editing se l'area è particolarmente grande quindi vediamo un attimo questa la spostiamo se io vado qua su questo pulsante ti si apre questa pulsante giallo ti si apre questa opzione ti dice tile by width cioè il comando tile vuol dire tagliare la nuvola di punti e spacchettarla secondo blocchi che hanno la stessa dimensione e all'interno ci possono stare punti coprendo tutta quella dimensione oppure no qua gli puoi dire guarda ritagliami la nuvola di punti prendendo dei blocchi che sono in planimetria 100% e tutto sommato dammi anche un po' di buffer 5 metri di buffer in modo tale che ognuno si sovrapponga con l'altro la diacente di 5 metri tu gli dai ok lui inizia un calcolo che dipende dalla quantità di punti della nuvola dalla numerosità dei punti alla fine del calcolo quello che ha fatto è dividerti la nuvola di punti vedi che avrei potuto scegliere un valore un po' inferiore perché questi 4 blocchi di fatto hanno veramente poco però puoi scegliere di utilizzare quindi di spostarti in uno soltanto o a turno di questi blocchi in modo tale che quindi scegliendone rendendole visibile uno o l'altro vedi questa è la parte di buffer in modo tale che ti si possa venire semplificata la vista e possa essere anche alleggerita tutto sommato il peso del dato che stai trattando perché qui dentro ci sono molti meno punti perché hai spacchettato la nuvola di punti generale questo è molto vantaggioso quando la nuvola di punti è davvero molto grande questo è un comando in più che ti viene in aiuto nel profile editing ce ne sono tutta un'altra serie che trovi qua sotto addirittura puoi classificare la nuvola di punti lavorando sulle sezioni scegliendo di selezionare alcuni punti e portandogli verso un'altra classe però questo è una cosa che magari vediamo quando entriamo nella classificazione della nuvola di punti partendo dalla classificazione di base e poi andando verso la classificazione più raffinata perché è uno strumento molto interessante che ti permette di avere degli output dei risultati molto interessanti la cosa che mi permette a farti vedere è che c'è questo tool dentro l'idart 60 che ti permette di lavorare sui profili non ti divide niente non ti crea nuovi dati lavora sempre sul solito file la cosa importante quando hai finito di fare le elaborazioni c'è un comando di salva però in questo caso io non ho fatto nessun tipo di elaborazione e il comando di salvataggio te lo faccio vedere in un altro video non hai dei file aggiuntivi non hai nuovi l'idata file è tutto molto intelligente in questo senso perché massimizza il dato che hai già all'interno che il software ha già all'interno permettendoti però di fare una serie di operazioni con il vantaggio di vedere il dato nella vista 2D che poi in 2D non è della sezione spero che questo video ti sia stato utile se utilizzi questo software è molto comodo io lo uso tanto come strumento per gestire le nuvole di punti per trattare le nuvole di punti e per lavorare specificatamente su alcune aree la sezione è molto vantaggiosa se lo è stato se pensi che possa essere utile a qualcun altro puoi condividerglielo altrimenti ti puoi iscriverlo al canale Telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica scritto in lettere oppure se vuoi puoi supportarmi e puoi comunicarmi con il tuo supporto il tuo finanziamento libero assolutamente volontario che quello che faccio ha un'utilità per te 3Dmetrica.it slash supporta io ti ringrazio per aver visto questo video fine in fondo ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini